Sì, è un po' più grande. Siamo a lavorare, diciamo, da una foto sopra, c'è un po' di fare questi duecentesimi. Siamo a lavorare, diciamo, da una foto, c'è un po' di fare questi duecentesimi. Siamo a lavorare, diciamo, da una foto. 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 Siamo a lavorare, diciamo. Siamo a lavorare. Siamo a lavorare. Ciao. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.